che succede niente come niente no niente lascia stare mi dici che c'è dai frizzi frizzi ma basta con ste smanceri ottavio hai rotto le palle te lo posso dire basta che ti prende giù mi prende che quando stavamo insieme non prendevi una decisione che fosse una ma una è andare a vivere insieme figurati non ne parliamo e figli ci mancherebbe altro e adesso ce l'hai la tua cosa lì alessandra vai goditela la devi sposare sposa tela falla felice ma da me che cosa vuoi adesso infatti io però ti voglio soltanto ricordare che sei stata tua a lasciarmi per raffa no l'artista quello che ti sapeva leggere la persona profonda perché tu volevi la novità beh io in questi anni giuro e non ti ho vista esattamente rifiorire stai iniziando a dire la verità anche tu quello che pensi davvero però sono traguardi anche questi io ti ho lasciato perché eri una meba ottavio non so se l'hai capito una meba di quelli senza palle proprio mollusco una roba un invertebrato questo eri manco so se ci hanno le palle le amebbe è chiaro è chiaro era una una meba si vede che tu hai un debole per i parasciti allora ma almeno io non mi facevo mantenere ma a